Io ho ascoltato attentamente le discussioni questa mattina e dico le tante bellezze. Prestato sempre nel campo dell'analisi, dico sinceramente, gli analisi non sono capaci di passare la proposta, però nell'analisi ho separato la proposta per continuare la proposta da preparare. Perché ho capito che le proposte che abbiamo fatto, una parte sono varie, l'altra parte invece ha segnalato i tempi che ho visto il dato. Allora, ritornare all'analisi necessaria, quali ci permette di carattere dove stanno gli errori, quali buoni, quelli che dobbiamo ottimare e quali permette di operare. Dico questo partendo da una realtà pratica, dei fatti, come si dice, che poi non corrispondono mai la realtà. Noi come compagni di Venezia abbiamo anche fatto banchetti di notte, di giorno, articolo 18, pensioni, articolo 8, freddo, caldo, poche parole siamo stati presenti nel campo. e il movimento 5 stelle, in giro di due, tre, quattro mesi, si era visto una contattura aiuto. In altre elezioni, io ho preso le 15%, noi abbiamo preso le 21%. Capita, com'è possibile che la nostra attività, di cuore, di anima, di sacrificio, non ha comportato un danno. Loro, che invece, non si sono andati a scudere, ma a casa, magari, davanti alle 20 mesi o alle 20, prende tutte le, diciamo, le giuglie di solita, che evidentemente ha comportato questo. La domanda che ci siamo chiesti, come compagni, è di salire l'attivo di questa terra. Ma siccome è possibile, se ne abbiamo dato tanto, ne abbiamo venuto a cuore, e ora ne abbiamo dato il loro, ma di tanto di più. Ecco, allora, il problema è di capire delle proposte che abbiamo fatto il mondo, e qui sono state accadute in questo momento. E addirittura sono stati ripresi, come diceva il compagno, che ha fatto quella lista, no? Di cose di sinistra, che sicuramente il compagno ha detto. Si, la forma è di sinistra, ma certamente il contenuto non è. Allora, il problema è di capire, se noi, in questa campagna, come si può dire, mediática, che il nostro comportamento, le nostre proposte, come sono state vissute le nostre proposte, rispetto alle loro proposte. E la gente, e noi chiaramente, abbiamo rapportato come le imprese. Le mie proposte, le nostre, chiaramente hanno visto come proposte normali, disutini, di disagio sociale. Le loro pensi avrebbero un diverso al cuore. Via la casta, via tutto, addirittura con questa mattina, con centri di carattere universale, etico, l'uomo. E noi, evidentemente, le nostre proposte continuano a parlare che mancavano di cammino, di cuore. Ma noi ci avevamo messo il cuore. Cazzo, non è vero. Ma cos'è questo cuore? Cosa è quest'anno? Noi, come comunisti, abbiamo idea diversa del cuore delle macchine. Ma abbiamo un'idea diversa di come ci rappresentiamo in questa situazione. Perché il fatto stesso è che noi ci siamo messi in concorrenza fra noi e loro. Vedete chi è più d'accordo con il disagio e meno, con la sofferenza e meno, perché poi la chiesa ci chiama sempre a sinistra sulla sofferenza. No, il Papa Donutti ci frega tutti sulla povertà e la sofferenza. Il problema è di capire. Allora, semplicemente, le nostre riforme, quando giustamente, quanto Paolo è venuto in giusti da noi, ha detto che le proposte fatte dall'Istituzione Civile sono delle proposte riformistiche, non sono proposte. Ma allora, se noi facciamo le proposte riformistiche, siamo riformisti, ma se siamo riformisti, automaticamente non siamo riformisti. Allora, quindi tutti che facciamo la riformizione, perché non ci crede a lui, dobbiamo fare delle riforme senza diventare riformisti. Ma come è possibile senza diventare riformisti, mantenere le riforme, che quello che l'azienda può, quello che si aspetta. Ecco il punto centrale. Il problema, di fondo, è di fare, contemporaneamente, avere qualcosa al contente. La riforma del prodotto in mezzo non è insieme come il PD, o di riformisti di nostra vita. Ma allora il problema è anche quello di capire come ci rapportiamo noi. Per me è stato molto illuminato l'articolo che ha fatto Caruso sul manifesto. No? E abbia l'impressione di questa mattina. Perché? Il fatto stesso che loro hanno adoperato la loro capacità, all'interno della borghesia, io la definisco ancora così, il problema è che fanno diventare il mercato di loro idee, il mercato e la loro politica. Hanno creato un valore di scambio, direttamente Marx, proprio per capire che ha anche un prezzo, che ha anche un'attività, ha un valore e certamente quei loro mesi, rispetto al nostro valore, ci frega la nostra incomporezza, non paghiamo. Qual è la cosa che possiamo capire se non abbiamo definito i calori? Non capire che noi abbiamo delle idee che vanno oltre alla riforma. Ma non lo ce l'abbiamo visto, hanno detto questa cosa. Per vedere l'incorrere, anche può darsi il dato elettorale, non a dire le cose come stanno. Abbiamo perso, vediamo come sono andato, non il dato per capire sì, ma vedete che lei si è messi alle cuore. Ma però che il concetto, appunto, della, chiaramente, della società via alternativa, sul servizio comunista, no. Ma quello deve essere presente nelle nostre lotte, nei nostri informi ci deve essere quella presenza del cuore, dell'etica dell'amorale, dell'ingueriano, sulla vita così, che non c'è, perché siamo spesi troppo. Mi ricordo se faceva l'articolo di soldo, le firme, i compagni vedevano quello in quel momento, non vedevano che, i compagni, guarda che a questo momento l'articolo di soldo, cose importantissime, ma sono cose per aumentarsi il salario, per difendere, sui diritti, ma non è solo questo il nostro campo, ma quell'oltre, quell'andare avanti, quella alternativa, dov'era, dov'era e dov'è ancora adesso. Pertanto la nostra critica, non mi ha visto assolutamente una critica di non fare una proposta ancora più grande di quella che abbiamo in etica, ma è che abbiamo visto una proposta partendo dalle cose sbagliate, e noi un nuovo e un vecchio, come diceva Tornoso in quell'articolo, il nuovo e vecchio si assomigliano, ma il superamento del nuovo è del vecchio qualcos'altro che abbiamo ancora da capire, secondo me. E' un vecchio che si rinnova, direi. E' una idea di comunismo che si rinnova, ma rimanendo comunista, però. Ma però la possiamo perdere strada facendo, ma la perdiamo quanto cosa la facciamo? Noi non facciamo più cultura. Mi piacerebbe fare che questo dibattito questa mattina fosse venuto prima delle elezioni, ma dopo. Stiamo discutendo una cosa già venuta. La prima generazione è il sintomo del 20%, quel ciclo di grido, che era già il 18. Ma noi siamo entrambi che pensavamo che evidentemente era un fenomeno come tutti gli altri. No, dobbiamo capire che la borghesia si difende non solo a destra, ma si difende anche la sinistra. Se lei vuole, lo so, appuntare sul braccio, non lo fa appuntare a nessun altro da sola, perché è capace di fare quello che evidentemente serve per mantenere questo potere e anche si fa dare una mano dalla classe operaria, dal proletariato e anche da noi quando stagliamo. Pertanto l'analisi che stiamo facendo deve essere truda, soprattutto non verso gli altri, ma verso gli stessi se abbiamo ancora questa idea di quella unità, di cui lei e di cui la te. Noi, quell'ideale e di cui lei gli stessi ci permettono ancora di tirare mano. Grazie. 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 Grazie.